Buonasera, mi chiamo Slavia Ghering e sono una delle creatrici di questo libro su sigilli e mandavano. Insieme a me sono state due altre autrici, Vittoria Masella e Anita Di Carolis. Tutti quanti facciamo parte dell'Accademia di Parapsicologia Applicata e di Ricerche Psichiche Intuizie e così sapendo esigenze dei nostri studenti, quelli che cercano di sviluppare le loro capacità extrasensoriali, capacità medianiche e anche ciò che richiedono da noi i nostri clienti perché lavoriamo come operatrici spirituali, operatrici olistiche. Certamente abbiamo raccolto quello che sta alla base delle esigenze di moltissime persone. Tutti vogliono avere un po' di magia nella loro vita e così abbiamo creato questo libro magico. Però la magia non funziona a sé. La magia ha bisogno di un sostegno da parte delle persone che si impegnano entrando in contatto così con le forze dell'universo e insieme si creano veri e propri miracoli. E in questo libro abbiamo raccolto vari sigilli e mandala, quelli che vi aiutano a fare i propri veri rituali. E così vedete come funziona la magia. Sapete benissimo che cosa investire, quanto tempo investire, quanto impegno vostro e poi vedendo i risultati veramente che saranno sorprendenti. Vi consiglio soltanto di avere sia il vostro tempo, penarelli, un buon intuito e anche un buon intento di ciò che veramente desiderate. Il libro dei mandala e dei sigilli magici è sicuramente un libro particolare perché in modo terribilmente semplice e utilizzando la nostra individuale creatività ci porta ad eliminare la razionalità e ad accendere in noi l'intuizione che è il ponte verso l'invisibile, il ponte verso la fonte, verso l'amore. Vedrete quanto è semplice mettersi in connessione con il mondo dello spirito, con l'amore e con tutto quello che forse avete sempre desiderato ma che non riuscivate a fare. Prendetevi un po' di tempo per voi stessi e scoprite quello di cui ognuno di noi è capace di fare semplicemente nella propria vita, nella propria esistenza. Auguro a tutti voi buona lettura e soprattutto buona vita. A presto. Ciao sono Vittoria e sono qui per presentarvi il nostro nuovo progetto, il nostro nuovo libro. Noi sperimentiamo costantemente ogni giorno della nostra vita sul piano fisico ogni nostra esperienza ma come percepiamo e sentiamo quando siamo connessi su un altro piano a livello energetico e spirituale. Questa è una delle domande più frequenti che mi viene posta dalle persone con cui mi relaziono, studenti, amici, conoscenti. Ed è proprio dalla necessità di rispondere a questa domanda che nasce l'idea e dell'ispirazione che dà vita alla realizzazione del libro dei sigilli magici e dei mandala. È un'opera unica nel suo genere, si compone di 27 portali. Entrate in questi portali, sperimentate, permettetevi di sentirvi per qualche minuto sospesi, in estasi, in perfetta connessione con l'invisibile. Permettetevi di provare sensazioni uniche in un mondo di solo amore e di sola luce. Provate, sarà un'esperienza meravigliosa ed unica. Vi auguro di fare un buon lavoro, un buon viaggio e una vita accompagnata dalla magia. Grazie a tutti.